Il gruppo Giovani Imprenditori ha deciso di promuovere una partnership con Biella Next, società satellite di pallacanestro Biella, al fine di avvicinare ancora di più i giovani atleti al mondo dello studio del lavoro e, viceversa, di diffondere i valori e i metodi di crescita sportiva applicandoli al mondo delle aziende. Nello specifico verranno organizzate delle giornate di incontro tra gli atleti e i giovani imprenditori. Obiettivo? Quello di far toccare con mano le realtà aziendali agli atleti, la loro storia e la storia formativa di chi ora le conduce e le porta avanti quotidianamente. La partnership con il gruppo Giovani Imprenditori dell'UIB è per noi un passo fondamentale per la crescita del nostro progetto e non vogliamo che sia un accordo di facciata, afferma Pier Giorgio Castelli, presidente di Biella Next. Avvicinare i nostri atleti al mondo del lavoro e della formazione post-diploma e i giovani imprenditori alla pallacanestro sono due obiettivi che vogliamo perseguire con costanza. Il vice presidente del gruppo Giovani Imprenditori, Luca Murta, tesserato per Biella Next, aggiunge La pallacanestro, o più in generale lo sport di squadra, ritengo sia una palestra formativa ineguagliabile per i più giovani. Dalla gestione dei rapporti umani fino alla gestione dello stress e della fatica, difficile trovare qualcosa di altrettanto formativo. Per questo motivo siamo certi di quale sia l'impronta formativa impartita ad ogni singolo atleta del club. Ogni ragazzo ha un talento intrinseco, una passione o semplicemente una predisposizione che, attraverso lo studio e la formazione, può curare e far crescere. Insieme a Biella Next, l'obiettivo è far sì che ogni ragazzo sia stimolato a scoprire il proprio talento e a lavorarci per trovare il mestiere che ama e che lo valorizzi.